Persone e comunità al centro della strategia di sostenibilità. SISAL ha presentato l'edizione 2019 del bilancio di sostenibilità in un processo di cambiamento per l'azienda, avviato con la strategia di internazionalizzazione e a fine 2019 con la separazione del business dei pagamenti SISAL Pay da quello dei giochi, oggetto del nuovo bilancio di sostenibilità. I risultati economici del 2019, per la sola parte relativa al business gioco, hanno registrato 9,8 miliardi di euro di raccolta, più 11% rispetto al 2018, 7,8 miliardi di euro di vincite erogate ai clienti, con un gettito erariale pari a circa 1,2 miliardi di euro. L'amministratore delegato Francesco Durante. Ci impegniamo a sostenere le nuove realtà imprenditoriali. Infatti è proprio dal desiderio di promuovere l'ecosistema delle start-up e di sostenere l'innovazione che è nato Go Beyond, Go Beyond è un concorso sviluppato da SISAL, adesso è la quarta edizione, ma con il supporto di partner molto autorevoli, che proprio ha la duplice finalità, da un lato di sostenere l'imprenditore di domani e dall'altro di promuovere l'innovazione a favore della collettività. Per questa edizione del concorso abbiamo deciso di sostenere due tipologie di iniziative. Progetti sulla resilienza, vale a dire iniziative imprenditoriali che possono favorire la ripartenza delle aziende nel post-Covid-19 e progetti sulla collettività, vale a dire iniziative imprenditoriali che promuovono l'innovazione sociale e creano valore per la comunità. SISAL è stata una delle prime aziende ad adottare un programma di gioco responsabile su base volontaria oltre dieci anni fa e oggi si articola in tre aree. L'educazione al gioco equilibrato e consapevole, la protezione dei consumatori e l'assistenza ai giocatori problematici. Ad esempio, su quest'ultimo aspetto, non ci siamo limitati a comunicare il numero verde dell'Istituto Superiore di Sanità, ma abbiamo voluto sostenere e finanziare un servizio di terapia online gratuito a cura di Federserd. E questo concretamente vuol dire passare da una logica di compliance, vale a dire di rispetto degli standard internazionali, a una logica di commitment, vale a dire di tutela del consumatore integrata nella gestione del business coinvolgendo tutta l'azienda.